Talula Riley ha recitato in vari film, fra i quali Orgoglio e Pregiudizio, oltre che in varie serie televisive, fra le quali Dr. Boo Dal 2008 è stata legata sentimentalmente all'imprenditore Elon Musk, che ha sposato nel 2010. I due hanno annunciato la separazione nel gennaio 2012, ed il divorzio due mesi più tardi In seguito la coppia si riconciliò, risposandosi nel luglio del 2013, ma già nel dicembre del 2014 venne presentata un'istanza di divorzio, poi ritirata Una nuova istanza venne presentata nel marzo 2016, ed il divorzio venne ufficializzato nel successivo mese di ottobre Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane